Oroscopo del giorno, lunedì, 26 marzo, 2018. Ariete. Amore, con Venere e Marte in perfetta risonanza alla forza della passionalità vi farà vivere momenti strepitosi. Riscoprirete affetti che avevate dimenticato come. I singola avranno ottime possibilità per iniziare un rapporto sotto i migliori auspici. Speriamo che vada bene. Lavoro, nel settore professionale siete in perfetta riga con il lavoro, ma ci sarà da lottare per imporre con grinta i vostri successi. Toro. Amore, in amore siete ben appagati, il partner vi adora e sentirete forte la stabilità nella vostra relazione. Per molti sarà il momento di parlare di matrimonio, convivenze, figli. I cuori solitari procederanno con una conoscenza, ma ancora non c'è nulla di definitivo. Lavoro, Marte e Saturno vi daranno tutta la grinta e lefficienza di cui avete bisogno sul lavoro, mediate però con il vostro solito buonsenso. Gemelli. Amore, qualche disputa in famiglia vi metterà di malumore, ma direte in faccia ciò che pensate e questo vi procurerà dei fastidi. Buona lintesa con il partner, vi è di grande aiuto. I single saranno circondati da tanti amici e ritroveranno l'affiatamento di gruppo. Lavoro, alcune ostacoli nel settore professionale vi impediranno di concludere affari e investimenti. Non demordete, sarete premiati. Cancro. Amore, un tradimento per molti del segno non sarà facile da accettare, soprattutto per chi avrà aperto il cuore a un nuovo partner. Inutile piangere sul latte versato, decidete se troncare o meno. Una persona cara potrebbe invece riapparire nella vita dei single e colorarla di nuovo. Lavoro, non allontanatevi dai vostri doveri e cercate di essere puntuali e sempre, sarà un inizio settimana abbastanza pesante. Leone. Amore, sarà un inizio settimana carico di imprevisti e non avrete certo tempo per annoiarvi. Oggi qualche contrasto con la persona amata potrebbe destabilizzarvi, resistete. I single, grazie al sostegno di Mercurio e Venere vivranno un pomeriggio fuori da ogni aspettativa. Lavoro, anche se ancora non avete visto risultati concreti, presto arriveranno molte soddisfazioni, anche in termini di guadagni. Virgine. Amore, se siete in coppia laria oggi non è certo il massimo ma siete più predisposti a comunicare con tolleranza e qualche volta con dolcezza. Un atteggiamento che contrasta lopposizione dei pianeti. I single faranno meglio a lasciare correre gli eventi senza alcuna pressione. Lavoro, lunedì produttivo e super organizzato, un po per merito vostro, un po per la luna efficiente che vi protegge nel lavoro. Bilancia. Amore, a volte è difficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose. Prendete quello che avete di buono e valorizzatelo. In serata emergeranno alcune lacune della vita di coppia. Alcuni single potranno avere ancora a che fare con un ex che non si rassegna. Lavoro, se avete bisogno di collaborazione preferite qualcuno che conoscete bene e che non potrebbe mai darvi guai. Scorpione. Amore, tra le coppie oggi si confermano complicità e interessi da condividere, unintesa perfetta per sigillare una relazione stabile. Chi invece ha uno stato danimo incerto eviti di scaricarlo sugli altri. Molti cuori solitari stanno vivendo in amore una primavera inaspettata. Lavoro, novità nel settore lavorativo, non siate troppo precipitosi e valutate bene le proposte e le offerte di lavoro. Sagittario. Amore, il quadro astrale non è proprio positivo, ma vista la vostra natura qualcuno deciderà di cambiare aria e forse, se il rapporto non promette nulla di buono, anche partner. È un momento di vigore anche per i single che avvertiranno nuove attrazioni. Lavoro, si prospettano nuove attività ma niente di stabile per un futuro concreto, un trasferimento potrebbe invece alterare un vostro programma. Capricorno. Amore, è il momento di fare una scelta di vita per correttezza nei confronti di chi amate. Venere mette l'accento nei matrimoni, e stimola la vita erotica un po' trascurata. Per i capricorno single ci saranno ancora insoddisfazioni sulla vita privata, ma meglio dimenticarle. Lavoro, nel lavoro ci sarà da poter fare carriera se solo sarete più lungimiranti e agguerriti, occorrerà però essere risoluti e decisi. Acquario. Amore, le buone prospettive di una vita di coppia stanno per convincervi che forse è ora di fare il grande passo. Cominciate a pensarci però con molta tranquillità, senza correre. Marte in Sagittario apre nuove strade ai single del segno che potranno fare incontri entusiasmanti. Lavoro, qualche idea geniale potrà sbloccare una situazione stontia e senza prospettive, sarà determinante la vostra collaborazione. Pesci. Amore, nelle relazioni sentimentali ufficiali oggi non ci sarà da stare allegri, un partner troppo impertinente e sotto certi aspetti dispotico peserà nel rapporto. Chi è single potrà fare un incontro importante con un potenziale partner. Lavoro, sono in arrivo con firme lavorative, un nuovo ambiente sociale vi accoglierà nel migliore dei modi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.